Ciao sono Sergio Calì e sono felice di invitarti ai corsi di alto perfezionamento che esiteranno quest'estate a Mainz. Durante questa settimana tratteremo insieme gli argomenti che fanno parte della vita giornaliera di un batterista e percussionista a 360 gradi. I corsi si terranno dal 21 al 27 agosto a Maenza, al Castello Baronale. Ci vediamo al Music Warriors! Visita la pagina www.amelaviola.it e seguimi su Facebook e sulla mia pagina YouTube. Ciao! Grazie a tutti!